Il Lanciano a Chiavari contro la Virtustentella vuole allungare la striscia positiva che dura da sette gare e vuole confermare quanto di buono fatto finora in trasferta con i rossoni rimbattuti. La volontà insomma non manca come non mancano gli indisponibili per il tecnico d'Aversa. Tre sono gli squalificati, Conti, Tiam e Bastola, Cerri è infortunato. Tutto vero, ma per favore non parliamo di emergenza. Le cosiddette riserve di questo periodo io penso che sono le mie risorse. Quindi nessun dubbio, nessuna perplessità, affronteremo la partita con il massimo impegno e chi andrà in campo sicuramente darà del filo da torcero. Proviamo a fare qualche ipotesi. In difesa l'assenza di Conti è compensata da rientro di Ferrario che giocherà in mezzo con Aquilanti spostato sulla fascia destra. A centrocampo Bastola potrebbe essere sostituito da Paghera che dunque giocherete da mezzala con Bacinovic confermato playmaker. Tuttavia non escluso che il tecnico possa far giocare anche Grossi. In avanti il contemporaneo forfè di Tiam e Cerri spiana la strada a Monachello. Per il resto chiaro quale dovrà essere l'atteggiamento con cui affrontare l'Entella. L'importante è l'aspetto mentale con cui la squadra va in campo che non deve mai prescindere dal fatto di lottare come se fosse una finale ogni singola partita. La squadra Ligure è reduce dalla scoppola di Catania ma sul sintetico di Chiavari sa trasformarsi. È chiaro che il risultato fa pensare a una partita molto semplice ma fino al 32esimo assolutamente non è stata partita facile neanche per il Catania. Poi in casa, come giustamente hai detto te, ha battuto il Frosinone. Penso che la prima sconfitta del Frosinone sia stata proprio lì. Quindi Guaia sotto lo lottore all'avversario. Anzi, vive ancora dell'entusiasmo della vittoria di un campionato. È una squadra, una società dove quest'estate penso sia una di quelle che ha speso più di tutte. Perché non ci dimentichiamo che ha preso giocatori come Marzolatti, Sansovini, Rinaudo. È una squadra da tenere assolutamente in considerazione e anzi, Guaia a fare l'errore di pensare di andare a fare una partita semplice.